Sfruttando il protrarsi della guerra sociale in Italia tra Roma e i suoi alleati italici, il re del Ponto Mitridate decise di espandere i propri territori nella penisola anatolica. Il suo espansionismo fu anche facilitato dal malcontento delle popolazioni locali nei confronti della rapacità degli esattori delle tasse romani. In breve tempo Mitridate occupò l'intera penisola anatolica, tranne l'isola di Rodi, che rimase fedele a Roma e ordinò lo sterminio di 80.000 italici presenti nella penisola. Il senato romano reagì nominando il console Silla governatore delle province d'Asia, col compito di ripristinare il dominio romano su quelle regioni. Mitridate questa, sotto la guida di Arestione, era passata dalla parte dei Pontici. Il re del Ponto aveva poi inviato un'armata al comando del genero Archelao in Grecia, per consolidarvi la propria influenza. Quest'ultimo era stato affrontato dal vice governatore Quinto Bruzio Sura, senza però che nessuna delle due parti prevalesse sull'altra. In Italia i dissapori tra ottimati e populares non furono messi da parte a causa della guerra. Anzi, Gaio Mario, leader della fazione popolare, convince il tribuno Publio sul Piccio Rufo ad annullare la nomina di Silla come comandante della spedizione in Asia, per ottenerne lui stesso il comando. Silla a questo punto prese una decisione senza precedenti, radunò sei legioni e marciò verso Roma violandone il perimetro sacro, per ripristinare l'ordine nella capitale. Dopo aver cacciato Gaio Mario e riottenuto con la forza il comando della spedizione asiatica, Silla ripartì per l'Oriente con cinque legioni. A settembre dell'87 a.C., appena riorganizzati in Grecia le proprie forze, il generale mosse verso Atene, ricongiungendosi con le truppe di Sura. Una volta approssimatosi alla città, divise il suo esercito in due. La prima metà avrebbe assediato Atene, in cui era asseragliato a restione, mentre la restante parte fu destinata ad assediare il Pireo, tenuto da Rechelao. La presa del Pireo era fondamentale per il successo dell'assedio di Atene, poiché proprio dal mare la città ricavava le vettovaglie necessarie al prolungamento della propria resistenza. Silla ordinò di raccogliere i tesori costuditi nei tempi greci per finanziare la propria campagna, con la promessa che sarebbero tutti stati restituiti a fine guerra. Poi procedette a circondare la città di Atene di fortificazioni per impedire ai cittadini di lasciare la città, aggravandone così il problema della mancanza di vivri. Egli procedette poi a demolire il muro di collegamento tra Atene e il Pireo. In quest'ultima zona lo scontro divenne particolarmente duro, per il vigore con cui gli assediati opponevano resistenza ai Romani. L'assedio continuava, quando Mitridate inviò un nuovo esercito a invadere la Macedonia, col compito poi di dirigersi a sud per dar manforte agli assediati che iniziavano a risentire della carestia dovuta al blocco dei rifornimenti imposti da Silla. Il 1 marzo dell'86 a.C. Silla, sentendo di avere ormai sfinito i difensori, ordinò di scavare un fossato attorno alla città ed infine assaltarne le mura. L'assalto ebbe successo e i Romani procedettero allo sterminio degli Atenesi, colpevoli di aver sposato la causa del re del Ponto. Silla permise la strage degli Atenesi ed il saccheggio della città. Il generale Romani infine stabilì la pena di morte per il tiranno greco e per tutti quelli che, avendone l'autorità o lo status di cittadino romano, si erano ribellati alle leggi provinciali romane. Il generale chiese poi come risarcimento del danno di guerra circa 20 kg d'oro e 600 libri d'argento, rilevandole dal tesoro dell'acropoli. Archelao intanto si barricò nel Pireo, ma Silla lo affò vehementemente, spronando e dando coraggio ai suoi uomini per un ultimo assalto. I Romani non si fermarono e costrinsero Archelao e i resti del suo esercito ad imbarcarsi sulle navi pontiche ormeggiate nel porto e a ricongiungersi all'esercito pontico che stava muovendo il loro soccorso presso le Termopili. Il primo tempo della guerra mitridatica aveva sorriso a Silla, che ora però si vedeva incalfato da un grosso esercito nemico in marcia proprio verso le sue truppe. Dopo la caduta di Atene, Silla si preparò ad affrontare l'imponente esercito mitridatico che li stava muovendo contro. Comandati dal generale Tassile e rinforzati dai contingenti fuggiti dal Pireo comandati da Archelao, i pontici avevano radunato un esercito di 120.000 uomini, di cui 10.000 cavalieri. Per contro il proconsule romano poteva opporvi 20.000 legionari e 20.000 ausiliari alleati. La situazione per Silla era critica, tanto più che nel frattempo in Italia il console Cinna aveva abbracciato la causa degli italici. Gli italici, infatti, che avessero ottenuto la cittadinanza romana sarebbero stati inseriti nelle tribù già esistenti, invece che essere inseriti in nuove tribù. Evidentemente, dato il maggior numero di italici rispetto ai cittadini romani, le posizioni di Cinna avrebbero dato maggiore peso politico ai rappresentanti della penisola piuttosto che quelli di Roma. La politica di Cinna trovava l'opposizione del suo collega Ottavio, nonché della plebe e dell'aristocrazia romana. Traeva invece il maggior sostegno dagli alleati italici di Roma. Le tensioni tra le parti aumentarono a tal punto che il senato romano decise di destituire Cinna, che fu costretto a lasciare Roma. L'ex console tuttavia non demorse e radunò un esercito tra i suoi sostenitori, con cui marciò verso Roma. Tra i generali dell'esercito spiccava Gaio Mario, che rientrato dall'esilio aveva affiutato la possibilità di rientrare nella vita politica romana. Grazie a queste forze Cinna tornò a Roma, facendosi eleggere console e ottenendo come collega lo stesso Gaio Mario. Il partito antisillano era quindi al potere a Roma, quando il proconsole si accingeva ad affrontare l'esercito mitridatico presso Cheronea. Il luogo dello sconto scelto da Silla era la valle del fiume Cepheus, dai monti a Contium ed Edilium. Silla fu informato da alcuni abitanti di Cheronea della possibilità di occupare le alture che scendevano a strapombo sulla destra dell'esercito mitridatico, così il generale romano, consapevole dell'importanza strategica di questa posizione, vi inviò un contingente. Occupate queste alture, i romani iniziarono a bersagliare con massi e pietre i pontici, costringendoli a retrocedere dopo aver perso circa 3.000 uomini. Silla schierò poi le legioni, disponendo ai lati le proprie cavallerie. Egli si pose quindi al comando dell'ala destra, mentre lasciò a Murena l'ala sinistra, mentre Galba e D'Ortensio furono lasciati con alcune corti in riserva per impedire movimenti aggiranti del nemico. Fu questa una delle prime volte in cui si assistette allo schieramento di una riserva tattica nel corso di una battaglia. Silla era consapevole del grande spazio necessario all'esercito pontico per schierare le proprie truppe efficientemente. I pontici infatti, oltre che di una numerosa cavalleria, disponevano anche di cari falcati. Il proconsule romano sfruttò l'iniziale confusione dell'esercito avversario per fare coprire il terreno che separava i due eserciti alle sue truppe. Incalfati dai romani, i pontici, che non si aspettavano di dover dare battaglia quel giorno, uscirono dagli accampamenti e si schierarono velocemente. Tassile, per rompere lo schieramento romano, inviò i cari falcati contro le legioni, ma queste lasciarono passare i cari tra le loro fila per finirli a colpi di giavellotto nelle retorie. L'ala destra di Mitridate, allora, attaccò violentemente quella sinistra romana, mettendola in difficoltà. Fu in questo momento che intervenne il grosso della riserva di Ortencio, a supporto delle truppe di Murena, mentre l'altra parte della riserva andava ad aiutare Silla anche lui in difficoltà sull'ala destra. Lo scontro si era stabilizzato ed i romani avevano annullato il vantaggio numerico dei pontici. Si era giunti al corpo a corpo e fu in questo momento che la maggiore preparazione ed addestramento dei romani ebbero la meglio. I pontici cominciarono a perdere terreno su tutta la linea e ripiegarono verso il loro accampamento. I romani incalzarono i nemici così da vicino che riuscirono a penetrare nel loro accampamento, facendone strage. Si stima che l'esercito di Mitridate perse circa 100.000 uomini, mentre i romani lasciarono sul campo un numero insignificante di caduti. La situazione politica a Roma tuttavia non lasciava tranquillo Silla. Infatti, pochi mesi dopo la sua nomina, il console Gaio Mario morì e Cinna fece nominare al posto del defunto Lucio Valerio Flacco, che inviò con due legioni in Oriente. Il compito di Flacco non è ben chiaro. Sta di fatto che Silla li è mosse incontro e Flacco, le cui truppe simpatizzavano per Silla decise di unirsi all'esercito del procorsole. Silla inviò quindi Flacco in Asia minore per portare la guerra direttamente nel territorio nemico, mentre egli avrebbe affrontato i pontici che si stavano riorganizzando in un grande esercito presso Orcobero. Terminata la campagna di Cheronea, Silla decise di rivalersi nei confronti dei Tebani e tolse loro la metà del loro territorio e attraverso le rendite di quei terreni restituì ai templi degli dèi i tesori che egli stesso aveva requisito per finanziare la sua campagna. Nel frattempo però un esercito mitridatico al comando del generale Dorilao era prodato in calcide con 80.000 uomini, ben addestrati e disciplinati, che si erano uniti ai 10.000 sopravvissuti della battaglia di Cheronea che erano fuggiti al comando di Archelao. Archelao consigliò al generale di non affrontare i romani direttamente, ma vista la precarietà della loro logistica, di logorarli lentamente. Fu così che Dorilao decise di accamparsi nella piana di Orcomeno, un luogo che avrebbe facilitato la manovra dei propri cavalieri e dei propri cari falcati, in caso di scontro con i romani. Silla però voleva terminare la campagna asiatica e raggiunse il rivale accampando il proprio esercito di fronte a quello avversario. Il generale, consapevole della superiore mobilità dell'esercito avversario, ordinò lo scavo di due larghe trincee che racchiudessero il campo pontico. Questo lavoro aveva il fine di annullare la superiorità della cavalleria pontica e giungere allo scontro attraverso un assalto delle fortificazioni nemiche, ingaggiando il nemico corpo a corpo, specialità nella quale i romani eccellevano. I pontici capirono le intenzioni dei romani ed assaltarono violentamente i legionari intenti a scavare le trincee. I romani inizialmente cedettero terreno ed erano anche sul punto di ritirarsi disordinatamente. Sono proprio questi però i momenti in cui i grandi generali dimostrano le loro doti. E così fu Persilla, che per dare animo ai suoi uomini scese da cavallo ed afferò una insegna, per poi dirigersi nelle prime linee, gridando, rivolto ai suoi uomini, «A me, romani, l'onore è di morire qui. Voi, se vi chiederanno dove avete abbandonato il vostro comandante, ricordatevi di rispondere a Orcomeno». I legionari si vergognarono della propria codardia e tornarono a combattere seguendo l'esempio del comandante. Lo scontro volse velocemente a favore dei romani, che respinsero gli assalitori, per poi tornare a concludere lo scavo dei fossati. In questi scontri i pontici persero più di 10.000 uomini, mentre i romani poche centinaia. Con quest'opera, ancora una volta, Silla era riuscito a conseguire il vantaggio tattico sull'avversario, annullandone il vantaggio numerico. I pontici erano ora costretti in uno spazio limitato, in cui non potevano fare valere la loro superiorità numerica. Intanto al campo romano venivano ricevuti i senatori costretti alla fuga da Roma, per via del governo di Cina. Sempre più Silla veniva ad essere il punto di riferimento della fazione degli ottimati, che vedevano in lui il leader che avrebbe potuto sconfiggere il partito dei populares, allora al governo di Roma, oltre che l'uomo che potesse ristabilire un governo legittimo della città, poiché il console Cina deteneva il governo oramai da tre anni, senza che fossero state indette elezioni nella capitale. Silla sentiva dunque di dover concludere le guerre contro Mitridate, e il giorno dopo, alla fine degli scavi, i suoi 30.000 romani furono lanciati all'assalto dell'accampamento pontico. L'assalto ebbe successo e i pontici furono sbaragliati. Silla a questo punto tentò di allestire una flotta per portare la guerra in Asia. In questo frangente fu informato di essere stato dichiarato nemico pubblico da Cina e che i suoi amici a Roma erano stati turcidati. Era giunto l'85 a.C., quando il console Flacco fu ucciso dal suo legato Fimbria, che prese il comando delle truppe romani in Asia. Egli, con decisione, marciò contro Mitridate, verso la capitale Pergamo, che conquistò. L'andamento degli eventi convince Mitridate a cercare l'alleanza di Silla per sfruttarla per contrastare Fimbria. Silla consentì a ricevere il sovrano pontico e i due stabilirono una pace col trattato di Dardano, nel quale veniva ripestinata la situazione politica antecedente all'inizio dell'espansione del regno del ponto. Mitridate dovette inoltre consegnare a Silla 70 navi e 500 arcieri e quindi ripartì per il ponto. Silla si diresse subito verso Fimbrio, ma gli uomini di quest'ultimo passarono senza combattere dalla parte di Silla. Fimbria, vistosi perduto, si uccise all'interno del proprio campamento. Silla aveva pacificato l'Oriente Romano ed ora poteva dedicarsi a ristabilire l'ordine in Italia, dove dall'87 a.C. il consolato era occupato da Cina, il quale non aveva permesso le elezioni annuali per il rinnovo della carica. La fazione di Cina aveva intuito il pericolo rappresentato dall'esercito di Silla ed iniziò a mobilitare uomini e risorse per allestire un grande esercito. La guerra civile tra Ottimati e Populares era imminente. Dopo aver sconfitto Mitrivate e ripristinato il dominio romano in Asia, Silla si stava organizzando per portare il suo esercito in Italia. Nella penisola gli umori erano contrastanti. Mentre il senato era aperto alla mediazione, i consoli erano decisamente schierati per la guerra ed avevano iniziato a trasportare le truppe in Croazia per fronteggiare l'esercito di Silla. L'esercito però non era contento di dover combattere contro compatrioti che si erano coperti di gloria. Il malumore sfociò in una rivolta in cui perse la vita il console Cina in persona. Silla intanto si era procurato la flotta necessaria a tornare in Italia con le sue truppe. Egli, da abile diplomatico, fece precedere il suo arrivo da diplomatici per assicurare gli italici circa le sue intenzioni al rispetto di tutti i diritti acquisiti dai cittadini, vecchi o nuovi che fossero. Offrirei ai senatori protezione per mezzo del suo esercito, domandando in cambio di riavere le proprietà che gli erano state confiscate e che gli fosse restituita la carica di augure che Mario gli aveva tolto illegalmente. I negoziati però fallirono e Silla attraversò la Grecia. Imbarcò l'esercito a Durazzo e sbarcò a Brindisi senza trovare resistenza. Le cinque legioni a disposizione di Silla superavano i 40.000 uomini, ma i suoi avversari disponevano invece di un esercito molto più numeroso, arrivando a contare, secondo alcune fonti, ad oltre i 200.000 uomini. Tuttavia questi erano inesperti e di dubbia fedeltà. Tra i sillani si contavano pure i comandanti migliori del tempo, come Metello Pio, Marco Licino Lucullo, Marco Licinio Crasso e soprattutto Nio Pompeo. Per il consolato dell'anno 83 i mariani avevano scelto Lucio Cornelio Scipione, esponente in senato dell'ala moderata, e Caio Norbano, uno dei cittadini di acquisizione recente. Erano state affidate loro due armate con cui opporsi a Silla. Il primo scontro avvenne alle pendici del Monte Tifata, in cui le truppe raccoglitizze di Norbano cedettero e ripiegarono verso Capua. L'esercito Mariano lasciò sul campo 13.000 uomini, a fronte di perditi rilevanti tra i sillani. Silla e Metello marciarono allora contro l'altro console. Scipione si disse favorevole a un negoziato e i due generali raggiunsero un accordo, che il console inviò al collega per essere ratificato anche da lui. Tuttavia l'accordo fu trasportato da Quinto Sertorio, un accanito antisillano, che sulla strada per Capua attaccò il presidio sillano di Suessa Aurunca, rompendo così la tregua tra le parti. Riaperte le ostilità, Scipione realizzò che in tutto quel tempo Silla aveva introdotto dei propri uomini all'interno dei propri accampamenti, per fomentare la sedizione dell'esercito consolare. Così i 25.000 uomini al servizio di Scipione passarono dalla parte di Silla. Scipione, liberato, si diresse a nord, dove comandò le operazioni contro Pompeo, per finire ancora una volta abbattuto e costretto all'esilio. Silla, parallelamente alle operazioni militari, proseguiva le azioni diplomatiche, per attirare a sé l'appoggio degli italici. Gli unici non contattati furono i Sanditi, già vittime del generale durante la guerra sociale, e da cui non si aspettava di trarre a benevolenza. Giunti a questo punto Silla controllava il Piceno, la Puglia e la Campania, mentre il resto d'Italia e tutta la Gallia Cisalpina erano schierate con il governo centrale. Per il consolato dell'82 furono scelti Papirio Carbone, divenuto capo della fazione mariana, e Caio Mario Iugnore, il figlio della Rapinate. La scelta di Mario portò la partenza di Quinto Sertorio, che partì alla volta della Spagna. La partenza di Sertorio preverà il partito mariano di uno dei comandanti più competenti tra le loro fila. Poco dopo Metello sconfisse lungo il corso dell'Esino uno dei legati di Carbone, e Pompeo batte lo stesso Carbone obbligandolo a ripiegare verso Rimini. Intanto Silla marciava verso Mario, ingaggiando battaglia su terreno sfavorevole, presso Perneste. Qui Mario in un primo momento respinse i Sillani, poi quando cinque corti del suo esercito passarono a Silla, le sue forze ripiegarono su Perneste, dove furono assediati dopo aver perso ventimila uomini. Silla lasciò Lucrezio Fella a proseguire l'assedio, mentre lui marciava verso Roma, da cui proseguì verso Letrughe, giungendo in vista di Chiusi. Egli mirava a conquistare Letrughe, l'Ungra e la Gallia Cisalpina, ancora in mano mariana. Intanto Pompeo batteva un'altra armata nemica presso Spoleto, mentre il quinto Metallopio era sbarcato a Ravenna per affrontare Caio Norbano. I mariani, per sollevare il morale delle loro truppe, decisero di liberare Perneste e fecero convergere due armate, una al comando di Censorino e l'altra da sud, composta di Lucani e Sanniti. Contro il primo esercito mosse Pompeo, che uscì vittorioso dallo scontro. La seconda armata era, per il momento, bloccata da Silla in persona. Due truppe, schierate in posizione forte, non potevano essere sloggiate. Caio Mario Juniore, da parte sua, tentò una sortita, venendo respinto, mentre Norbano, venuto sonoramente battuto da Metello Pio, scappò a Rodi. Papirio Carbone rischiava ora di essere preso in mezzo tra l'esercito di Metello e le forze di Silla. Vista la situazione, pensò bene di rifugiarsi in Africa. A difendere la causa mariana non restava che l'ultima armata, composta di Lucani e Sanniti. Questi, bloccati da Silla, decisero di muovere verso Roma, per attirare il generale in campo aperto, dove avrebbero potuto giocarsi le sorti dello sconto in un'unica battaglia. Erano le calende di novembre, quando, a meno di due chilometri da Porta Collina, si accampò l'ultima grande armata mariana. Silla giunse ad affrontare l'armata mariana schierando sulla destra le truppe al comando di Marco Licinio Crasso, mentre Silla stesso comandava l'ala sinistra. I mariani avevano disposto alla sinistra i reduci delle armate sconfitte, mentre sulla destra furono posizionati i Sanniti, a cerimi nemici di Silla. I due eserciti si scontrarono e presto le truppe di Crasso misero in fuga quelle dei legionari mariani, mentre sulla destra dello schieramento sillano i Sanniti respinsero i legionari di Silla, che ripiegarono verso Roma. Il presidio cittadino di Roma però chiuse le porte alla città, cosicché i legionari di Silla furono costretti a riorganizzarsi in un disperato tentativo di resistere ai Sanniti. Lo scontro fu durissimo e si protrasse fino a notte, quando le truppe di Crasso tornarono ad aiutare i combilitoni, accerchiando e sparagliando i Sanniti. Pochi giorni dopo cade Preneste e Mario Juniore si tolse la vita. Si concludeva la guerra civile, che secondo Appiano era costata oltre 100.000 morti e che si era conclusa con la distruzione quasi totale del Sannio. Si era all'anno 82 a.C. e Silla a questo punto, essendo morti entrambi i consoli, si fece leggere dittatore a tempo illimitato. Questi, per evitare il dilagare delle violenze e delle rappresaglie ai danni della fazione mariana, escogitò allora il meccanismo della proscrizione, con l'obiettivo di limitare ad un elenco limitato il numero di persone oltre le quali non sarebbero stati ammessi sopprusi. Carbone fu catturato a Pantelleria e giustiziato da Pompeo, che riconquistò l'Africa, mentre Cario Norbano si tolse la vita a Rodi, per paura di essere consegnato a Silla. Resisteva tuttora in Spagna alla testa di un esercito, Quinto Sertori. Tra il 29 e il 30 gennaio Silla celebrò il proprio triunfo e tra le prime misure adottate vi fu naturalmente la sistemazione dei veterani. Grazie infatti alle confische territoriali e ai danni delle comunità schieratisi con i suoi avversari, egli assegnò lotti a oltre 120.000 uomini. Essendo molti senatori morti durante il conflitto, Silla ne nominò di nuovi e aumentò il numero dei membri del Senato nominando senatori tra i membri delle nobiltà italiche. Per quanto riguarda le singole cariche, Silla intervenne a limitare drasticamente il potere dei tribuni della plede e provvide a regolare l'assegnazione delle cariche nel corso della vita politica dei politici romani. Non meno importante vi fu l'estensione del pomerium, che venne portato alla linea dell'armo e del rubicone. Il nostro protagonista depose regolarmente alla dittatura il primo giorno di giugno, al termine dei sei mesi previsti per quella carica, e ricoprì poi come previsto il consolato per l'anno successivo, insieme a Quinto Cecilio Metallopio. Rifiutò la carica per l'anno dopo e il 31 dicembre di quell'anno rinunciò definitivamente al potere e si ritirò a vita privata nella sua villa di campagna. Il grande generale e politico romano sarebbe morto per cause naturali nel 78 a.C., all'età di 60 anni.